Dipendenti presunti assenteisti al comune di Palma di Montechiaro, la Procura della Repubblica di Agrigento invoca 16 condanne. I dettagli sull'inchiesta. An Agrigento, al Palazzo di Giustizia in Evia Mazzini, il Pubblico Ministero Cecilia Baravelli è stata impegnata nella requisitoria a carico di 20 dipendenti del comune di Palma di Montechiaro, presunti assenteisti. A conclusione la Baravelli così si è rivolta alla tribunale. Signori giudici, condannate 16 imputati e assolvetene 4. Nel corso della propria ringa il magistrato ha ricostruito il comportamento presunto parassitario degli impiegati incriminati. Le sue parole al bar, al supermercato, a fare la spesa o semplicemente chiusi dentro la propria automobile, a leggere il giornale, il tutto durante le ore di servizio. Le telecamere hanno provato tra l'altro che un imputato, un sabato mattina, neppure è andato in ufficio, ma gli è stata pagata la retribuzione, inquadrata come straordinario, grazie al collega che ha timbrato per lui. Il danno è superiore rispetto all'importo delle retribuzioni non dovute, perché incide sul funzionamento dell'ente e fa perdere la fiducia del cittadino. Dunque, nel dettaglio, sono state proposte condanne dai 12 ai 19 mesi. Un anno e 7 mesi per Salvatore Di Vincenzo, 58 anni, Ignazio Falsone, 72 anni, Fabio Marino, 55 anni e Giuseppe Rume, 66 anni. Poi un anno e 5 mesi per Salvatore Castellino, 60 anni. Poi un anno e 3 mesi ciascuno per 7 imputati. Grazie Arcadipane, 57 anni, Matteo Bordino, 65 anni, Renato Castronovo, 69 anni, Maria Collura, 60 anni, Giuseppe Calogero Petrucci, 61 anni, Anna Provenzani, 57 anni e Silvana Cancialosi, 58 anni. E poi ancora, un anno e 10 mesi per Gioachino Angelo Palermo, 63 anni e un anno ciascuno per Vittorio Inguanta, 69 anni, Rosario Salerno, 61 anni e Rosario Zarbo, 57 anni. Per altri 4 imputati è stata proposta l'assoluzione e la Baravelli ha spiegato il perché. Perché gli allontanamenti dal posto di lavoro sono stati chiariti con motivazioni di servizio o sono stati ritenuti di modesta entità e quindi inoffensivi. Si tratta di Calogero Mario Di Carro, 64 anni, Concetta Maria Di Vincenzo, 54 anni, Francesco Lonobile, 72 anni e Baldassare Zinnanti, 69 anni. I pedinamenti ai servizi di osservazione sono stati svolti in due fasi, nel 2014 e nel 2015. Il luogotenente Luigi Marletta, all'epoca capo della stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro, a processo ha dichiarato Gli episodi di assenteismo sono venuti alla luce grazie ad una fonte confidenziale che ha avvisato di come al Comune ci fosse l'usanza di passare il beige delle presenze per poi uscire dall'ufficio e andare in giro. Sulla base di questa informazione abbiamo chiesto alla Procura di Agrigento di posizionare delle telecamere che sono state piazzate davanti al rilevatore delle presenze e nei due ingressi del municipio.